Venerdì 14 giugno si alza il sipario sulla sessantesima mostra internazionale del nuovo cinema, il Pesaro Film Festival, che tocca tanti luoghi della città ma che ha il cuore pulsante nel luogo dove ci troviamo ora, Piazza del Popolo, in questo anno di Pesaro, capitale della cultura, nel palco alle nostre spalle con l'allusfera, simbolo di Pesaro 2024, ci sarà Sergio Castellitto, ospite d'onore, a aprire questa rassegna, un Castellitto che venne a Pesaro alle origini della sua carriera, come ci ha raccontato questo pomeriggio in un'anteprima con la stampa tenutasi nel cortile dell'atelier Atti. Tanti anni fa si capitai qui, ero nella zona della categoria degli emergenti, penso che questo sia una mostra del cinema, un festival del cinema davvero meritevole, davvero meritevole perché negli anni è riuscito a rimanere in qualche modo autorale, sperimentale in qualche misura, però anche ad aprirsi ad un pubblico meno apparentemente militante o legato soltanto a un certo tipo di cinema. Soprattutto in questo periodo, in questa epoca in cui l'attenzione verso il cinema in sala è davvero basso. La presenza di Castellitto a Pesaro è strettamente legata al ventennale di Non ti muovere, film ispirato al popolare romanzo della moglie Margaret Mazzantini, un film che ricorda con particolare trasporto lo stesso Castellitto. È stato uno stato di grazia che ha accolto un pochino tutti, io, Penelope, Margaret, ma io direi veramente tutta la troupe, io lo so, intanto li vedo dal direttore della fotografia, allo scenografo, al costumista, tutti hanno un ricordo struggente di quelle settimane là. Poi tieni presente una cosa che fa la sua differenza, io dirigevo il film, ma io ero anche il protagonista maschile, per cui ero nella trincea del set, attore insieme ad attrice, insieme, e quindi in qualche modo tutto accadeva in maniera così emotivamente forte, in maniera così febbrile, e accadeva insieme. L'ho sempre definito il mio film più politico nel senso psichico della parola, perché al di là delle, come dire, delle pastoie più o meno ideologiche, dei teoremi, della ferocia o meno di certi temi, sui quali siamo naturalmente tutti d'accordo, gli artisti hanno il compito di ribaltare i temi, di cercare altri modi narrativi, altri perdoni. Un castellitto che con la stampa si è aperto anche su quelle che sono le sue aspirazioni attuali e future. C'è il piacere di fare questo tipo di esperienza al centro sperimentale, c'è la scrittura di un prossimo film, di cui naturalmente non parlo, insieme a Margaret, ovviamente, di cui non parlo fino a che le cose non accadranno davvero, e poi, insomma, mi godo anche il piacere e il successo di mio figlio, di miei figli, insomma, sapere che in qualche modo hanno trovato ognuno di loro per il proprio percorso una strada, insomma, interessante, è una cosa che mi fa felice, mi fa stare sereno. Grazie a tutti.